Amici di Arcade Story, benvenuti al cabinato di oggi, Universal 1981 Ladybug. Parliamo di un gioco molto simile a Pac-Man, ha rivoluzionato il labirinto di Pac-Man perché c'era la possibilità di stravolgere il labirinto muovendo delle parti in cui giravano e quindi tutto il labirinto cambiava l'aspetto. Molti lo conoscono perché in Italia il bootleg di questo gioco si chiamava coccinella ed è diventato famoso anche in America, ne hanno avuto anche loro una parte del nostro bootleg. Si tratta di una coccinella che deve mangiare i vari puntini proprio come Pac-Man però la cosa bella è che invece dei fantasmini ci sono degli insetti che vogliono mangiarla quindi scarafaggi e altri tipi di insetti, adesso non ricordo i nomi perfetti ma vogliono mangiare la coccinella a tutti i costi. Oppure ci sono dei teschi all'interno del labirinto che non dobbiamo prendere ma se li saliamo sopra moriamo. Cosa c'è di innovativo poi in tutto questo? Come è stato per Mr. Do, sempre dell'Universal, qui si possono prendere le lettere nel momento giusto cioè quando sono illuminate con il giusto colore. Quindi ci saranno le lettere dell'extra per avere una vita extra oppure special per avere una partita extra e poi i moltiplicatori di punti per 2, per 3 o per 5. Infatti il bello poi di poter avere la possibilità di vincere una partita o una vita extra dava la giocabilità a chi l'utente finale che andava a giocare di invogliarsi di più per poter vincere appunto la partita o la vita extra. Infatti ha servito moltissimo questo spunto, come è servito molto per Mr. Do. Il cabinato dell'Universal, sapete anche voi, sono una cosa meravigliosa. Sono stati disegnati da un famoso artista manga e lo si ricorda sul post che ho fatto in Instagram che riguardava Davison. Bellissimo, veramente un cabinato meraviglioso e questo non è da meno. Voi potete osservare la plancia comandi e il bezel sono veramente fatti in una maniera meravigliosa, colori eccezionali. Date un'occhiata proprio perché ha una rarità, queste belle immagini hanno una rarità che veramente la si può riscontrare in pochissimi altri cabinati. Il mobile è un generico della Universal dove all'interno c'era anche Mr. Do e veniva usato per cambiare con i vari kit di conversione usando lo stesso mobile. Quindi un nolleggiatore era più intento a comprare un mobile di questi dove aveva poi un minor costo se voleva cambiare gioco piuttosto che comprare altri giochi originali dove li potevo usare solo una volta, almeno fino a quell'epoca 1981. Gioco semplice, gioco di una facile familiarità per iniziare a giocare, quindi non si deve fare niente, si deve solamente portare via tutti i puntini dallo schermo, ma la cosa carina è che come su Pac-Man veniva fuori la frutta, la ciliegia, la fragola e quant'altro, qui bisogna aspettare che tutti i nemici escano dalla loro tana per poi riuscire ad andare a prendere il frutto o la frutta che nascondevano nella loro tana. Quindi troveremo il cetriolo, la melanzana, il peperoncino, il raperonzolo e l'insalata o il broccolo, adesso non so di cosa si tratta di preciso, però questi questi frutti ti davano la possibilità di bloccare i nemici in maniera tale che si poteva terminare tranquillamente tutto il livello. Bene, ho raccontato anche questo Ladybug che personalmente mi riporta coi ricordi alla vecchia pizzeria dove andavo con i miei genitori quando non avevo ancora dieci anni a giocare a questo splendido gioco e quindi tutti gli odori e i profumi della pizza ogni volta che gioco ritornano in mente a farmi ritornare con la mente in quel periodo. Spero che sia così anche con voi mentre guarderete questo video, vi prego di condividere il più possibile per quelli che non hanno la possibilità di aver potuto vedere com'era realmente il gioco in origine e vi auguro una buona giornata. Ciao, grazie! Ciao! 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 Ciao!